Un importante accordo è stato raggiunto tra la Pisana e i sindacati per la stabilizzazione dei precari del servizio sanitario regionale. L'intesa prevede il consolidamento e la valorizzazione dei lavoratori impiegati durante il periodo di pandemia nei reparti Covid e al contempo il rilancio dell'intero sistema con una rete territoriale più ampia e diffusa. Nel breve periodo, affermano Cenciarelli, Chierchia e Bernardini, segretari generali di CGL, Cisle e Will di Rome e Lazio, si dovrà gestire la fase post-pandemia, riducendo i tempi di attesa e recuperando le prestazioni che non si sono potute erogare finora. Successivamente bisognerà incrementare i servizi di presa in carico, prevenzione e diagnosi precoce delle patologie e l'assistenza post-ospedaliera alle fasce di età più avanzate. Fondamentale è la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei contratti a tempo determinato e nel frattempo l'impegno ad attivare forme di stabilizzazione del personale, concludono i sindacati. Soddisfazione è stata espressa dalla consigliera regionale Marta Bonafoni che ha dichiarato il percorso intrapreso rappresenta la strada giusta per fare di questo accordo un modello replicabile su scala nazionale, un impegno cruciale che permetterà alla regione Lazio di non lasciare indietro nessuno, conclude Bonafoni.